Il più grande team di supereroi che il mondo abbia mai visto. I Sette. Cerca qualcosa in particolare o...? Non perdiamo altro tempo, Q.W. Ho saputo cosa è successo a Robin. Non sei da solo. Molti perdono la vita ogni anno a causa dei supereroi. Devo andare! Devo andare! Robin! Ma è qui che entro in gioco io. Scolacciarli quando oltrepassano il limite. Oh, mio Dio! Vuoi controllarlo? Oh, devi toglierti la scopa dal culo. Si può sapere perché continuate a litigare come due coglioni. Abbiamo un lavoro da fare. Sono invulnerabile! Stupidi figli di puttana! Io sono il più grande supereroe del mondo. Posso fare quello che cazzo voglio. Stiamo per inchiodare questi stronzi bastardi. Io me ne vado! Ehi! Che fine ha fatto, Sporty Spice? Chi? Sporty fottuta Spice. Che fine ha fatto? Io non lo so. E Baby? Non se ne parla neanche a pagina 6 del Daily Mail. Vedete? Quando sono separate, sono praticamente da buttare via. Ma se le metti insieme, diventano le fottutissime Spice Girls. Il punto è che noi dobbiamo restare uniti oppure siamo morti e sepulti. Cristo, mai sentito un discorso peggiore? Sono d'accordo con te. Non posso farlo. Devi premere quel... Cazzo, ti prego! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Noi siamo i sette. Gli eroi più potenti al mondo. Figlio di puttana! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, non ti prego! Scusa il francesismo, li devi fottere.